Pillola di maturità numero 9, pillola dedicata al rapporto tra Nice e Pirandello. Sicuramente D'Annunzio e Pirandello sono i due letterati, i due intellettuali italiani che più di tutti portano il pensiero di Nice all'interno della poetica, della letteratura italiana. Sul rapporto tra Nice e D'Annunzio ho già dedicato una lezione, vediamo adesso di sviluppare il rapporto tra Nice e Pirandello. Cerchiamo di vedere i parallelismi. Partiamo con il dire che Pirandello ha letto le opere di Nice. Quanto in profondità le abbia letto non c'è dato sapersi, però sicuramente ha letto le opere di Nice. e abbiamo più riferimenti diretti che fa Pirandello a Nice stesso. Il riferimento più importante e più celebre è quello che rilascia in un'intervista, quello che emerge da un'intervista nel 1936, in cui Pirandello ci dice Nice diceva che i greci alzavano bianche statue contro il nero abisso per nasconderlo. Io le scrollo invece per sollevarlo. Dunque a Nice, Pirandello riconosce questo ruolo di distruttore, decostruttore della cultura classica tradizionale e della cultura poi occidentale che in nome della paura dell'abisso del Dionisiaco ha elevato stato ad Apollo, alla ragione, a tutti gli dèi tranquillizzanti rispetto all'orrore, al terrore che suscitano gli abissi dell'assenza poi di senso del mondo e dell'essere. Ebbene, dunque c'è una citazione diretta da cui possiamo partire. Poi possiamo anche dire un'altra cosa. Possiamo dire che sicuramente Nice e Pirandello lambiscono i campi della letteratura e della filosofia, ovvero Nice è un filosofo che di fatto scrive benissimo, scrive non sotto forma di trattati, ma aforismi, saggi con elementi di romanzo e dunque è un filosofo che va verso la letteratura. D'altro canto non possiamo non riconoscere una filosofia in Pirandello. Dunque è il poeta, il romanziere e l'autore di teatro che più che mai va verso la filosofia, che edifica una vera e propria filosofia, una lettura della realtà, dell'esistenza dell'uomo, del destino dell'uomo. Dunque c'è della filosofia in Pirandello così come c'è della letteratura ovviamente in Nice. Il poeta letterato, Pirandello, il romanziere e il filosofo Pirandello, il letterato, il filosofo Pirandello e poi c'è il filosofo letterato, il filosofo poeta, il filosofo scrittore, cioè Nice. Dunque questa piccola introduzione per dire che sono già dei punti di contatto anche nel modo di rapportarsi alla disciplina, alla letteratura e alla filosofia. Vediamo qualche parallelismo. Sono dei parallelismi ovviamente intellettuali, sono dei parallelismi che proviamo a derivare dalle opere di Pirandello. La lezione è dedicata pienamente più a Pirandello e vedere cosa c'è di Nice in Pirandello. Dunque c'è i parallelismi con le ovviamente anche relative differenze. Io partirei, l'ho detto, da questa natura ibrida, dunque del letterato filosofo e il filosofo letterato, per poi andare a vedere appunto i contenuti. Innanzitutto parliamo di due moralisti. Penserei di partire da qui. Sono due moralisti. Cosa vuol dire? Che sia Pirandello, che Nietzsche, che Pirandello si occupano dell'umano troppo umano, di svelare quale sia poi la natura umana, di criticare la natura umana, smascherare più che mai il gioco delle parti della vita. E in Nice vi è questo proprio smascheramento della menzogna dell'orizzonte appunto favolistico e metafisico dentro cui è gettato l'uomo, una narrazione metafisica che ha imbrigliato di fatto l'umano troppo umano. Bisogna tornare alla dimensione umana troppo umana, permette di svelarla, disvelare l'umano troppo umano, che caratterizza appunto l'uomo con tutte le sue debolezze, con tutte le sue grandezze, con le sue miserie, con le sue nobiltà. Dello stesso dicasi per ovviamente Pirandello, bisogna appunto più che mai capire qual è il gioco delle parti dentro cui gli uomini sono inseriti e capire qual è la caratteristica umana, troppo umana, delle vite. Dunque per Pirandello più che mai c'è questo gioco delle parti in cui si è inseriti, in cui gli uomini tra l'altro vengono inseriti anche da altri uomini, anche poi convenzioni, morali, sociali, culturali, che di fatto ingabbiano ed è una gabbia che non è spezzata poi come Faranice con l'Ubermensch o con la volontà di potenza, la volontà di potenza manca nella prospettiva di Pirandello ma questa è poi la parte finale a cui appunto vorrò dedicare appunto il finale della videolezione. Dunque partiamo di dire che sono due moralisti, analizzano la morale umana, cercano di capire quali sono appunto le caratteristiche della vita umana, della morale umana, quali sono le gabbie dentro cui gli uomini sono inseriti, cercano di capire quali sono le forzature, le catene che appunto impediscono all'uomo di essere libero, se la libertà poi esiste, ci arriveremo. Secondo punto, c'è una critica sicuramente al cristianesimo, che in Nietzsche è totale per essere solo all'anticristo, non tanto a Cristo, ricordo che Cristo ha una dimensione superomistica, la dimensione dell'Ubermensch c'è in Cristo per quanto concerne Nietzsche, basta di pensare a questo Cristo abbandonato dal Padre in croce nel dolore, nell'abisso, nella solitudine, sono degli elementi appunto superomistici in Cristo, ma il cristianesimo viene attaccato duramente come religione appunto antivitale della rinuncia, della morale del perdente, dell'astuzia dei sacerdoti che hanno dominato il mondo attraverso appunto una morale della porra e della sconfitta e del timore. E nel giovane Pirandello soprattutto, nel giovane Pirandello e nelle poesie, in modo particolare Pasqua di Gea, c'è di fatto una critica al cristianesimo, Pirandello Biasima, un cristianesimo che nega la vita, un cristianesimo che mortifera la vita, allora nel costruire questa lezione sono partito anche da questa comunanza, c'è una critica al cristianesimo, un cristianesimo che rinuncia, un cristianesimo che è un'esaltazione della morte, ma della morte poi come risurrezione, cioè come fuga dalla vita in terra per poi vivere una vita nell'aldilà, dunque la morte è esaltata anche da Nietzsche, bisogna sempre avere un rapporto, in confronto con la morte, tema poi ripreso ovviamente da Heidegger, su cui Heidegger edificherà tutta la sua filosofia. Ma qua la morte del cristianesimo viene vista come una cosa da temere, ma che poi verrà risolta dalla risurrezione, dall'amore di Cristo, alla bontà di Cristo e dunque c'è la fede come rinuncia a una vita, a una vita terrena e una proiezione nell'aldilà, una rinuncia alla vita vitale ovviamente per poi una risurrezione dell'aldilà. Dunque delle poesie appunto della Pasqua di Gea Pirandello sicuramente biasima questo cristianesimo antivitale, questo cristianesimo della rinuncia, è un tema tipicamente diciano, però ripeto, in Nietzsche la critica al cristianesimo, come la critica al platonismo, all'idealismo, a tutte le metafisiche, è durissimo, il cristianesimo e il platonismo hanno però la colpa di essere un po' gli iniziatori di questa morale della rinuncia, di questa vita della sconfitta, di questa vita antivitale, dunque bisogna rovesciare il cristianesimo, bisogna essere immorali, se la moralità è cristiana bisogna essere immorali. Altro tema, e mi sembra poi il tema ovviamente centrale, è il tema della maschera, il tema della maschera che è il tema principale di Pirandello, però qua c'è, per chi non lo conosce questo passaggio, un po' un colpo di scena. uno dei frammenti del 1884, Nietzsche dice «L'uomo è un attore che recita un ruolo che è il risultato del mondo esterno, al quale l'uomo accorda la propria persona come si accorda il suolo delle corde». Ecco qua, dunque l'uomo è un attore, sul palco della vita, tema ripreso chiaramente anche da Schopenhauer, l'uomo che recita, no? Recita nel senso che recita uno spartito, una parte, un copione, il suono uno spartito recita un copione della volontà di vivere in Schopenhauer. Qua l'uomo recita, recita adeguandosi a un mondo esterno, come si accordano le corde di un violino, di una chitarra, noi siamo accordati alla volontà di un mondo esterno, alle menzioni di un mondo esterno, siamo accordati alla moralità del mondo esterno, alle leggi, alle norme del mondo esterno. Dunque noi rinunciamo a quello che è la spiritualità, a quello che è l'energia, a quello che è la volontà di potenza. Bene, l'uomo come attore, l'uomo come attore è ovviamente più che mai l'argomento centrale del tema pirandelliano, della poetica pirandelliana. I protagonisti di Pirandello sono appunto uomini mascherati, hanno una maschera, hanno una maschera, ma a differenza dalla prospettiva di Nietzsche sono uomini consapevoli di avere una maschera. Dunque non sono liberi, ma sono in parte consapevoli o in gran parte consapevoli di recitare, di avere una maschera, una maschera che vorrebbero togliersi, una maschera che non vorrebbero indossare. E dunque rispetto a Nietzsche, secondo il quale c'è questa sorta di morale, di menzoglie dentro cui gli uomini sono ingannati, incatenati, recuperando più il mito della caverna di Platone, sin dalla nascita siamo incatenati, peraltro noi non sappiamo quello che sono ombre, non sappiamo che quelle sono ombre, perché pensiamo che sia in realtà veri oggetti, e non proiezioni di oggetti ombre. Così anche per Nietzsche noi siamo dentro una narrazione menzognera favolistica, e non riusciamo a percepire che essa sia una menzoglia. serve lo sforzo, serve Zaratust, serve il folle che ti annuncia la morte di Dio, serve poi trasformarsi in Ibermensch. Invece in Pirandello questa consapevolezza di una maschera, di una recita sociale, di un'identità che si è costretta di indossare, o che ti hanno costretto di indossare, bene, questa entità fasulla fittizia è ben consapevole, dunque c'è un desiderio di libertà, anche in molti protagonisti pirandegliani, c'è un desiderio anche di ribellione, che può essere più moderata, e pensavo appunto all'episodio contenuto nel racconto, poi la carriola dove il professore, l'avvocato, di grande anche forza, di grande personalità, ci si mette a fare la carriola con il proprio cane, per rompere definitivamente quella maschera, lo fa con moderazione, con quello che è tutta l'ironia pirandegliana, e dunque cerca di rompere quella maschera, con moderazione e correnoria, per uscire da un ruolo che gli è stato imposto, che lui non sopporta più, in nome di una libertà, di una ricerca di identità su cui poi torna. Oppure lo rompe in Pirandello, il protoggio pirandegliano, il protoggio pirandegliano rompe questa maschera, questa finzione, questa recita, con più forza, e basta pensare chiaramente qua al romanzo, uno nessune e centomila, qui Moscarda rompe, rompe in maniera radicale la maschera, e c'è una vera propria rottura, una ribellione, va a distruggere la propria maschera, dunque la propria falsa identità, o la propria identità, appunto impostagli, viene rotta con forza, si va all'autodistruzione di queste maschere, maschere con queste identità fittizie, si va alla distruzione con un atto di ribellione, con un atto radicale, dunque Moscarda rompe in maniera radicale questa maschera, il tema della maschera che si indossa per Nice, per sopravvivere, si edificano le statue, uno accetta le maschere perché si ha paura, e poi non si rende neanche più conto di avere la maschera, i personaggi di Pirandello sanno spesso che è una maschera, faticano magari a riconoscerla, ma poi quando la riconoscono la vorrebbero togliere, non tutti riescono, ma c'è un desiderio, un eneto di libertà, basti pensare all'atto di ribellione degli attori, rispetto ai propri ruoli, rispetto ai ruoli imposti dal regista, nell'opera appunto, questa sera si recita a soggetto, qua gli attori si ribellano, non vogliono interpretare le parti che sono state ad essi impartite, imposte, assegnate, dunque la ribellione dell'attore, in cui stasera si recita a soggetto, dovrebbe essere la ribellione degli uomini, dell'uomo rispetto alla maschera, dunque c'è questo tema che è fondamentale, il tema della maschera, poi c'è un altro aspetto importante, un altro aspetto importante, con anche delle differenze tra Nice e Pirandello, per Nice non c'è dunque questa verità oggettiva, non ci sarà neanche ovviamente poi per Pirandello, ma c'è questa maschera menzogna, che ti annebbia, che ti imprigiona, e che di fatto ti porta in una situazione di assuefazione, il non rendersi pienamente più conto della menzogna millenaria dentro cui siamo inseriti, invece in Pirandello la maschera è imposta da uomini ad altri uomini, non c'è questa menzogna millenaria, non c'è questa edificazione ideologica, filosofica, che ci porta a recitare, Nice è molto vicino a Schopenhauer, questa c'è la volontà di vivere, qua c'è la menzogna millenaria, ma sono simili, sono delle macro menzogne, nella prospettiva pirandelliana sono maschere anche molto meno metafisiche, ideologiche, assolute, sono maschere della quotidianità, sono le maschere dell'essere appunto avvocato, professore, marito, la maschera dell'essere amante, dell'essere un buon cristiano, dell'essere un buon padre, dell'essere un buon soldato, dell'essere quello che la società vuole che noi siamo, ma che altri uomini vogliono che noi siamo, quello che noi indossiamo per compiacere gli altri, quello che altri ci obbligano a indossare per essere accettati all'interno della società, dunque sono delle maschere umane, anche a quel certo punto troppo umane, messe da altri uomini, costretti, gli uomini sono costretti a indossare, che sono costretti a dover subire, ma c'è un desiderio di cambiamento, un desiderio di cambiamento, perché gli uomini vorrebbero essere liberi, ma la rigidità di queste maschere, queste maschere, via una viene subito un'altra, portano l'uomo alla tristezza, portano l'uomo alla sofferenza, e dunque l'uomo è vittima della rigidità della maschera, è vittima di questo soffocamento della maschera. Poi, il tema della pazzia, la pazzia spesso per Pirandello e per Nice è un giudizio morale, è la morale della folla che ti indica come pazzo, ma nella pazzia ci sta probabilmente l'anelito più importante di libertà, la pazzia è rottura, la pazzia è essere magari fuori luogo, fuori dal tempo, ma essere anticipatori di un luogo giusto, di un tempo giusto, e dunque il follo è un giudizio della follia, un giudizio della folla, essere follo è un giudizio della morale della folla, che non accetta tutto ciò che è diverso, tutto ciò che rompe la maschera, tutto ciò che rompe la dimensione attoriale, tutto ciò che va al di là della bizzoa millenaria, viene tacciato di follia, di pazzia, ma la pazzia ha una valenza liberatoria e importante all'interno della filosofia di Nietzsche, all'interno della poetica di Pirandello. Andiamo in chiusura, gli ultimi due o tre punti, c'è l'abolizione ovviamente del concetto, gli ultimi due punti, di verità oggettiva, e c'è la destrutturazione dell'io, l'io unitario e indivisibile, già appunto destruttato da Schopenhauer, e poi da Nietzsche, ulteriormente strutturato da Freud e frammentato in maniera appunto forte da Pirandello, c'è la destrutturazione dell'io unitario, c'è la crisi del soggetto, il soggetto non è più unitario, non è più palese, non è più solare, c'è il crollo del soggetto, tutto ciò porta al relativismo, c'è un relativismo in Pirandello e in Nietzsche. In Nietzsche potremmo arrivare a un relativismo totale se partiamo dall'idea che tutti i fatti non esistono, esistono solo le interpretazioni e dunque un'ermeneutica totale, il relativismo assoluto, non esistono neanche più i fatti, ma solo le interpretazioni dei fatti, che è una provocazione molto forte in Nietzsche, ma che ci vuol dire che alla fine le cose sono come noi le giudichiamo, sono come noi le filtriamo, sono come noi le plasmiamo di fatto, dunque i fatti sono inferiori alle interpretazioni dei fatti, dunque c'è un relativismo fortissimo all'interno di Nietzsche perché è venuto meno l'oggettività, è venuto meno una verità vera, è venuto meno l'unità di questo soggetto, ma c'è altrettanto un relativismo in Pirandello, ci sono tutti attori, ma tutti attori con delle maschere, soprattutto tutti i ruoli sono delle ipocrisie, sono delle ipocrisie per sopravvivere, per comunità, per paura, dunque non c'è verità, ma c'è appunto un'ipocrisia di fondo, l'ipocrisia chiaramente significa mascherare la verità, la verità è mascherata dall'ipocrisia. La crisi del soggetto, ovviamente la destrutturazione del soggetto, il venire meno di una verità assoluta, la frammentazione, la precarietà esistenziale, la frammentarietà del soggetto, che ad esempio è ben raffigurata dai quadri di Picasso, i personaggi di Picasso, i soggetti di Picasso sono destrutturati, è venuto meno il soggetto, dunque la destrutturazione del soggetto è in Picasso l'elemento cardine, ma la stessa Guernica è una Spagna destrutturata, se non andiamo al quadro più politico, ma andiamo in quadri appunto che era proprio degli uomini, dunque dei ritratti, questi ritratti sono ritratti di frammentazione di soggetto, la societività non c'è, è una società fluida, siamo liquidi, l'alto sulla liquida è l'inità liquida di Bauman, e l'inità liquida di Bauman è l'ultimo, l'ultimo, non c'è nulla di ultimo, ma in questo momento è una delle ultime teorizzazioni di una identità che è liquida, che è precaria, questa identità che è liquida, precaria, identità frammentata, destrutturata, è già presente in Nietzsche, in Pirandello, o nelle opere di Picasso. Ecco dunque che come si esce dal relativismo, come si esce dalla frammentazione, dal crollo del soggetto, e si esce in maniera diversa però tra Nietzsche e in Pirandello. In Nietzsche si esce con la volontà di potenza, in Nietzsche si esce con l'Ubermensch, l'Ubermensch rompe la crisi del soggetto, l'Ubermensch rompe il relativismo facendosi appunto creatore di orizzonti, sta arrivando mia figlia Atene nel frattempo, creatore di orizzonti, creatore di mondi, l'Ubermensch è volontà di potenza, cioè l'uomo che si fa Dio, ma si fa un Dio bambino che domina il caos, plasma il caos, in maniera comunque relativa, ma l'Ubermensch è una risposta al relativismo e alla crisi del soggetto. Vieni Atena, invece il relativismo in Pirandello termina, dopo termine il video in questo punto, termina con le dimissioni, cioè abbandonare l'identità falsa, abbandonare la fuga e un'uscita dimissionaria, è l'emblema di questa uscita dal relativismo, dall'impossibilità di una conoscenza, di un'identità, dalla precarizzazione, dalla falsità di questo soggetto ristrutturato, è appunto simboleggiata dal fu Mattia Pasquale che diventerà Andrea Meisi. Ubermensch, soluzione niciana, le dimissioni, la fuga, verso una libertà in Pirandello con il fu Mattia Pasquale. Ce l'ho fatta, adesso vado ad Atena, ci vediamo domani con una pillola. Grazie a tutti. Grazie.